Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo io è Robby. Oggi in questo video ti do tre diverse idee su come riciclare i tappi a corona, i tappi delle birre. Pronti? Cominciamo! La prima idea di riciclo e riuso di questi tappi è appunto quella di realizzare un sottobicchiere. Serviranno quindi nove tappi, ne andremo a capovolgere e con della colla a caldo ad unire. La colla a caldo servirà sia per unire sia per non far scivolare il sottobicchiere, quindi ottima idea utilizzare la colla a caldo piuttosto che altre colle. Questo è il risultato. La seconda idea a scopo ludico. Quando ero piccolino io realizzavamo questi bastoni rumorosi, basterà forare i tappi a corona. Io lo sto facendo con un trapano ma possiamo farlo anche direttamente con il chiodo. Andremo ad inserire appunto i tappi in un chiodo, il verso dei tappi è indifferente perché si muovono e facciano rumore l'uno con l'altro. Andremo poi ovviamente ad inchiodare diversi chiodi ad un pezzo in legno ad un bastone e questo ci tornerà utilissimo per far musica, ritmo o semplicemente appunto rumore. La terza idea di riciclo è forse per me quella più utile. Voglio realizzare infatti un tappeto con appunto sempre dei tappi di bottiglia, un tappeto per pulirmi le scarpe quando torno da campagna o sono eccessivamente infangate. Infatti i tappi appunto andranno a raschiare e saranno ottimi per pulire le sole prima di entrare in casa. Bene quindi questo era il video di oggi. Come al solito se ti è piaciuto il video o hai trovato interessante l'argomento lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Seguimi sui social che trovi qui sotto in descrizione, spunta la campanellina per restare sempre aggiornato su tutti i miei video, fammi sapere la tua qui sotto nei commenti. Io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!